Salve a tutti sono Mario Contino e oggi vi parlerò della leggenda dello spettro del castello di Monopoli in Puglia. Prima però vi invito a registrarvi al canale e a selezionare la campanellina per restare sempre aggiornati sui nuovi video. Se è vero che ogni castello che si rispetti ha sempre il suo fantasma devo ammettere che lo spettro che dimorerebbe nel maniero monopolitano è forse il più singolare da me incontrato nei miei anni di studi su folklore pugliese. Infatti questo spettro si aggirerebbe nottetempo nel castello terrorizzando i testimoni che avessero la fortuna o la sfortuna di incontrarlo e suonando una tamorra strumento a percussione che nella forma ben ricorda il ben più noto tamburello che spesso viene utilizzato nella pizzica salentina. La leggenda fa riferimento come accennato alla figura evanescente di una donna che apparirebbe percuotendo il suo strumento creando un suono ritmico e ben udibile ascoltato con terrore da decine di testimoni nel corso dei secoli quasi tutti i pescatori che la notte si trovavano nelle vicinanze della fortezza che per l'appunto si affaccia sul mare e sul porto antico del paese. Qualcuno afferma che il famoso spettro appartenga ad una donna rimasta nella nostra dimensione perché nell'eterna attesa del ritorno del marito morto nelle acque antistanti la fortezza in un naufragio avvenuto in seguito ad una violenta tempesta. Percuotendo lo strumento la donna tenterebbe di indicare all'uomo la direzione della terraferma quindi cercando di farlo rientrare. Secondo altre leggende invece le apparizioni non avrebbero all'interno del maniero ma nei pressi del vicino molo. In questo caso il fantasma sarebbe quello di una suora impegnata a spaventare le tante coppiette di giovani che si appartano nelle vicinanze in cerca di intimità. Qualunque sia la causa che possa spingere il presunto fantasma ad apparire le tante leggende mi portarono ad effettuare un'indagine già nel 2013 un'indagine nota come ghost hunting atta a stabilire se lo spettro potesse realmente dimorare nel castello ossia se nel maniero si verificassero eventi definibili di natura paranormale. Ero particolarmente emozionato ed abbastanza curioso. Con me era presente anche il professore Cosimo Lamanna sempre attento a salvaguardare la storia, il folklore ed in generale la cultura monopolitana e non solo quella monopolitana. Non ottenne nessun risultato tangibile dal materiale video fotografico né dalle tracce audio registrate. Solo alcuni suoni interpretabili in molti modi, troppi modi a dire il vero, e certamente causati dal fenomeno della pareidolia acustica. Ottenne invece un segno ben evidente sulla mia pelle, un graffio sulla schiena rosso e dolorante che comparve a seguito della mia forte insistenza affinché una presunta entità manifestasse in qualche modo la sua presenza. Casualità? Non posso escluderlo ovviamente. La mancanza di prove concrete mi porta però ad essere sempre molto cauto con le dichiarazioni. Il rumore che molti dichiarano appartenere allo strumento adoperato dallo spettro potrebbe essere causato dalle onde del mare che durante le notti tempestose potrebbero insinuarsi in cavità sottomarine e tale suono poi amplificato proprio dalla struttura del castello potrebbe essere quello ascoltato dai pescatori nel corso degli anni. Comunque il castello di Monopoli è certamente tra i più belli ed interessanti d'Italia anche grazie proprio a questa magnifica leggenda. Spero che questo argomento vi sia piaciuto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.